La scelta ottimale per recarsi in paesi stranieri o comunque tropicali è legata ad alcune variabili che fondamentalmente sono lo stato di salute della persona che si reca all'estero e d'altra parte la situazione epidemiologica del paese in cui si andrà per cui non è possibile tracciare un percorso identico per tutti, la situazione va personalizzata nel senso che è importante conoscere attraverso esami o attraverso l'anamnesi la storia clinica del paziente, del viaggiatore diciamo meglio e sapere esattamente dove si reca, i tempi di soggiorno, la stagione in cui si muove, in cui andranno i paesi tropicali e tutto ciò consente di fare una valutazione il più possibile personalizzata. Grazie a tutti!